Vi parlerò dell'equilibrio dinamico tra opposti, in altre parole vi parlerò dell'equilibrio dinamico all'orlo del caos. Che cos'è l'orlo del caos? È tra ordine e disordine. L'orlo del caos è la zona intermedia tra ordine e disordine, non è ordine ma non è disordine. I sistemi naturali si trovano tutti in una situazione di ordine dinamico che non è né l'ordine immutabile e statico delle cose, ma nemmeno il disordine incontrollabile e pericoloso del caos. L'orlo del caos è una terra di mezzo. Il concetto di edge of chaos, tradotto come margine del caos o d'orlo del caos, è stato introdotto nel 1990 da Chris Langton, che è un fisico del Santa Fe Institute, fondato nel 1984 nel New Mexico e che è uno dei più importanti centri di studio delle scienze della complessità. L'orlo del caos è l'area della vita. La vita è all'orlo del caos. Troppo ordine morte per fossilizzazione, troppo disordine morte per disintegrazione. Non è un caso che la vita sia nata nel brodo primordiale. Non poteva nascere nel sistema solido perché c'è troppo ordine, la materia non può incontrarsi, non poteva nascere nemmeno nello stato gassoso, c'è troppa rarefazione, le molecole si incontrano troppo poco spesso. La vita è nata allo stato liquido. La vita è nata circa 8 miliardi e mezzo di anni fa, probabilmente tramite i vulcani sottomarini che continuavano a derruttare e la materia si è combinata per miliardi di anni, finché a un certo punto è scoccata la vita. Da materia inorganica si è passati a materia organica. Ma l'orlo del caos è anche l'ambito della distruzione creatrice. Diceva Pablo Picasso, ogni atto di creazione prima di tutto è un atto di distruzione. Vi ricordo che nella trinità induista Brahma è il creatore, Shiva è il distruttore e Vishnu è l'arbitro. Il primo a parlare in economia di distruzione creatrice è stato il grande economista austriaco Josef Schumpeter nel 1938. Lui sostiene che gli imprenditori continuamente distruggono l'equilibrio esistente perché introducono innovazioni di prodotto, di processo, organizzative e nei modelli di business e quindi distruggono l'equilibrio esistente e vanno a porsi per primi nel nuovo equilibrio, cercando di tranne dei vantaggi competitivi. Noi siamo abituati ad associare al disordine significati negativi e all'ordine significati positivi. In realtà noi sappiamo che il disordine è necessario alla creazione. Noi dobbiamo accettare il disordine come strumento di innovazione. Dobbiamo evitare uno stagnante status quo e l'anarchia della perpetua distruzione. Come diceva lo scrittore Paul Valéry francese, due pericoli minacciano costantemente il mondo, troppo ordine e troppo disordine. E come diceva il poeta francese Paul Claudel, l'ordine è il pensere della ragione, ma il disordine è la letizia dell'immaginazione. Siamo abituati a pensare all'ordine e siamo abituati a pensare al disordine, ma non siamo abituati a pensare all'ordine e al disordine insieme. Ciò che ci insegna la scienza della complessità è che noi dobbiamo imparare ad abbracciare il paradosso, uno stato in cui l'ordine e il disordine coesistono. In altre parole dobbiamo passare dalla cultura dell'or alla cultura dell'end e per dirla con le parole del grande poeta argentino Borges, quando trovi un vivio imboccalo. E come sosteneva Eraclito nei frammenti bisogna unire ciò che è completo e ciò che non lo è, ciò che è concorde e ciò che discorde, ciò che è in armonia e ciò che è in contrasto. Questo uomo in frac rappresenta tutti noi, tutti voi, le nostre organizzazioni, la nostra società, tutti in cammino, lungo sentieri stretti, in bilico, tra ordine e disordine. Per rimanere in equilibrio, ovvero per rimanere in vita, dobbiamo usare magistralmente il bilanciere, in modo di continuare a camminare sul crinale dell'orlo del caos. Dobbiamo stare molto attenti a non cadere nel troppo ordine, morte per fossilizzazione, e nel troppo disordine, morte per disintegrazione. Una metafora che spiega efficacemente il concetto dell'orlo del caos è quella dell'onda del mare. Vedete, a monte dell'onda abbiamo la stasi e l'ordine, a valle dell'onda abbiamo i flutti nel caos, mentre l'onda rappresenta l'area della complessità, è l'orlo del caos. Perché i surfisti si mettono sulla cresta dell'onda? Perché c'è il punto di massima energia. Ecco cosa bisogna fare, stare sulla cresta dell'onda, non rimanere nell'area dell'ordine e nemmeno farsi travolgere dal caos dei flutti. Dobbiamo imparare a surfare all'orlo del caos. Per cavalcare l'onda del cambiamento dovete accettare la sfida di rimanere sulla cresta dell'onda, dovete stare sul punto di massima energia, all'orlo del caos, tra ordine e disordine, nella zona della distruzione creatrice, nella regione dell'innovazione, nell'area della complessità della vita. Non è facile essere un bravo surfista. Devi possedere una buona attrezzatura, devi essere preparato fisicamente, devi nuotare contro corrente, devi salire rapidamente sulla tavola per prendere l'onda, devi saper scivolare agilmente e anche quando sei in alto, al massimo, devi guardarti intorno per vedere quali onde arriveranno, perché ogni onda, anche la più grande, prima o poi finirà. Nessuna onda è per sempre, come nelle imprese, come nelle organizzazioni, come nelle professioni, come nei mercati, come nella vita. Pantarei, tutto scorre. Il concetto di orlo del caos ci consente di individuare un modello di gestione molto efficace per la gestione delle organizzazioni e delle imprese. È un modello proprio ispirato all'orlo del caos, fondato su due circoli autorinforzanti. Il primo circolo è fondato sulla capacità relazionali. Cosa vuol dire? Gestire gruppi e gestire reti esterne. E questo determina la capacità di organizzare il presente. L'effetto che si ottiene è quello della continuità delle cose che sono fonte di efficienza operativa. E il tutto serve a migliorare il contesto. Questo circolo è detto proprio circolo del miglioramento, anche detto dell'exploitation, cioè dello sfruttamento di cosa? Della conoscenza consolidata che consente di ottenere efficienza statica. Poi abbiamo, vedete, l'orlo del caos che separa il primo circolo che è alla ricerca dell'ordine dal secondo circolo che invece è alla ricerca del disordine. Il secondo circolo è attivato dalla capacità creativa che consente di immaginare il futuro e quindi di dare discontinuità al presente, il che ci porta in uno stato di distruzione creativa con l'obiettivo di creare nuovi contesti. Questo è il circolo dell'innovazione, anche detto dell'exploration, cioè dell'esplorazione di nuove opportunità che genera efficienza dinamica. È appunto la ricerca del disordine. Questi due circoli di miglioramento e di innovazione sono interconnessi, come vedete, dai due attributi di continuità e di discontinuità. Noi abbiamo bisogno di continuità perché è fonte di standardizzazione, di ripetibilità, di stabilità, cioè fonte di efficienza statica. dovuto appunto allo sfruttamento della conoscenza consolidata. Ma abbiamo bisogno anche di discontinuità, cioè di creatività, di innovazione, fonte di efficienza dinamica. Dovuto appunto all'esplorazione di nuove opportunità con la generazione di nuova conoscenza. Il primo circolo, vedete, ci tiene dentro l'ordine. Il secondo ci spinge verso il disordine, il tutto in un equilibrio dinamico. E i due circoli insieme rappresentano appunto il modello manageriale all'orlo del caos. Quali sono le organizzazioni che sono capaci di realizzare il vivere in due stati diversi? Quella della continuità e quella della discontinuità. In letteratura si chiamano organizzazioni ambidestre. Sono capaci di stare nell'ordine e nel disordine. È un bel problema. Perché? Perché devono coesistere due culture, due mondi cognitivi, due classi di competenze, due organizzazioni, due schemi di gioco. Sono due mindset opposti. Sfruttamento significa trarre il maggior profitto dalle attività esistenti e dalle conoscenze che possediamo. Esplorazione, invece, significa individuare nuove strade per creare nuovi vantaggi competitivi. L'organizzazione ambidestra si trova a dover gestire contemporaneamente quattro processi diversi. Il primo, l'efficientamento del noto e scoperta dell'ignoto. Il secondo, processo di sfruttamento del certo e esplorazione dell'incerto. Il terzo, un processo rivolto al presente è il miglioramento, cioè l'innovazione incrementali e un processo rivolto al futuro è l'innovazione radicale. E un quarto è un processo finalizzato ad ottenere sia efficienza statica e un altro ad ottenere sia efficienza dinamica. Si creano tensioni continue, ma è possibile trasformare queste tensioni da distruttive ingenerative, come nella metamorfosi, consentendo apprendimento e sviluppo. Una persona apprende finché vive e un'organizzazione vive finché apprende. Che cosa significa in ultima analisi essere un'organizzazione ambidestra? Significa essere un'organizzazione coscientemente duale, ovvero che permetta la coabitazione intenzionale, non la contrapposizione e nemmeno l'alternanza di due sistemi, la gerarchia che tutela l'ordine e l'auto-organizzazione che consente il disordine. Mi avvio alle conclusioni. Recentemente sono diventato sindaco civico della città di Udine e il concetto di orlo del caos mi è tornato utile anche in ambito politico. Guido da 18 mesi una maggioranza extra large, con dentro Italia Viva, Azione, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, una lista civica di centro e una lista civica di sinistra. Un'autentica arca di Noè, con a bordo sia carnivori, sia erbivori, sia univori. Il programma a suo tempo concordato nella dinamica del divenire politico non è sufficiente a tenere unite tutte queste forze, perché abbiamo cose da fare che non sono state messe del programma. E allora abbiamo adottato una strategia ispirata all'oro del caos, una maggioranza a geometria variabile. A volte mancano i voti della sinistra più radicale, a volte quelli del centro più tradizionale. In sintesi, troppo ordine, che vuol dire votare sempre tutti i divisi, trasformerebbe la coalizione in una Babilonia. Dobbiamo, con una maggioranza geometria variabile, imparare a surfare all'orlo del caos. Siamo pronti? Risponde Shakespeare, ogni cosa è pronta se anche i nostri cuori li sono. E vi ringrazio. Grazie.